A Cetaglia Giusti il Balsamico sposa la Mixology Claudio Stefani, a Cetaglia Giusti Modena vedo delle novità interessanti sul bancone, di cosa si tratta? Abbiamo appena lanciato, sempre proseguendo nel nostro percorso di parlare di Balsamico e di Mixology e di Cocktail abbiamo appena lanciato la nostra collaborazione con Nio l'azienda che è leader sul Ready to Drink Premium con cui abbiamo sviluppato due cocktail che hanno come caratteristica quella di unire il nostro Vermut, che è stato invecchiato in botti di aceto balsamico e lanciato già 5 anni fa quindi il Vermut Giusti, all'aceto balsamico di Modena, 5 medaglie d'oro che noi chiamiamo Banda Rossa quindi il nostro balsamico molto invecchiato, molto buono e praticamente come sapete il Ready to Drink si muove in questo modo questo è il nostro Negroni, 1605 e quindi ha tutte queste note fortemente balsamiche l'altro è il Milano-Modena Milano-Modena è un po' una revisione del Milano-Torino che sarebbe stato appunto Campari e il Vermut, la parte di Torino, Vermut diventa su Modena e quindi lo portiamo a Modena, Campari è un Select e naturalmente c'è poi il nostro balsamico Grazie a tutti Grazie a tutti